ciao benvenuto o benvenuta in questo nuovo video oggi parliamo di un argomento molto interessante e sicuramente molto spesso sottovalutato che è il messaggio del benvenuto allora noi cosa vogliamo fare se abbiamo deciso di aprire un e-commerce o magari già l'abbiamo aperto da qualche tempo e vogliamo ovviamente migliorare i nostri risultati una delle cose più importanti che dobbiamo fare è quello di instaurare una relazione con l'utente che poi diventerà cliente e che poi ci auguriamo ovviamente diventi un cliente abituale ok quindi quello che dobbiamo fare è creare un rapporto che ci porti a una fiducia quindi il cliente si deve fidare di noi e questo ovviamente implica una comunicazione un appunto rapporto tra le parti la prima cosa che fa l'utente è quella di visitare il nostro sito quindi visita il nostro sito magari è interessato a quello che vendiamo magari inizia abbiamo fatto un buon lavoro di esperienza utente insomma inizia a navigare ed è contento di quello che ha trovato sul nostro sito ma magari ancora non ha deciso di acquistare quindi il passaggio successivo potrebbe essere una conversione non necessariamente che sia l'acquisto ma il fatto che ci lasci una propria mail un'email che in cambio appunto noi gli diamo qualcosa che molto spesso si traduce in uno sconto o magari delle informazioni o magari degli omaggi ok quindi il passaggio successivo qual è l'utente arriva sul nostro sito magari attraverso un pop up o magari attraverso un form che trova sul sito stesso decide di lasciare la propria email quindi a quel punto lascia l'email e noi cosa facciamo ovviamente gli diamo come prima cosa quello che gli abbiamo promesso e ovviamente gli arriva un'email completa di un'altra serie di informazioni che siano utili per creare appunto questo tipo di rapporto quello che ho fatto per voi oggi è quello di andare a iscrivermi ad alcune diciamo newsletter e ricevere appunto dei messaggi di benvenuto di alcune aziende che comunque lavorano bene fanno questo lavoro in modo adeguato utilizzando però strategie diverse quindi quello che ne facciamo adesso ne andiamo a vedere e ne andiamo ad argomentare in modo tale appunto da capire anche in base al tipo di azienda al tipo di business che tipo di ragionamento hanno fatto e che cosa hanno deciso appunto di utilizzare per ottenere dei risultati e di creare questo famoso rapporto con i propri clienti andiamo a vedere appunto attraverso la mia casella di mail quali sono i messaggi di benvenuto che andiamo ad analizzare allora la prima riguarda Sorgente Natura è un sito che parla di prodotti alimentari biologici naturali e quello che fa un sito molto grosso tra i più importanti comunque sicuramente in Italia quindi quello che fa la prima cosa ovviamente da il benvenuto e partendo dall'inizio quindi dall'alto andiamo a vedere l'oggetto ok quindi cosa fa dice guarda io sul mio sito ti ho promesso uno sconto di 5 euro quindi la prima cosa che ti dico è intanto nell'oggetto ecco il tuo buono sconto quindi ti do quello che ti ho promesso quindi anche nell'oggetto decido di mettere questo tipo di informazione quindi do il benvenuto che è sicuramente una cosa molto importante e come prima cosa ti do le istruzioni e le informazioni per andare ad utilizzare il tuo sconto la mail di benvenuto è molto breve come vediamo appunto ci sono delle informazioni diciamo abbastanza lineari ed è tutto relativo allo sconto non utilizzo neanche un'immagine diciamo di impatto quindi molto semplice lineare c'è il tasso per attivare il buono sconto e poi ci sono alcune informazioni sull'azienda sempre per creare questo tipo di rapporto visto che ancora il cliente non ha mai acquistato da loro ovviamente gli ribadiscono alcune informazioni che comunque si trovano sul sito sulla soglia di spedizione gratis la possibilità di avere il contrassegno gratuito il reso gratuito e diciamo un'altra informazione importante che è la percentuale dei clienti che sono soddisfatti di aver acquistato da loro ok poi ci sono le informazioni aziendali e ovviamente la possibilità di disiscriversi che questa è obbligatoria ricordiamocelo quindi questo è un esempio andiamo a vederne altre allora andiamo a vedere Velasca che dice ora sei in famiglia è quel tuo sconto allora loro fanno leva su due cose sul discorso appunto di far parte di una community e ovviamente ti dicono anche loro del discorso sconto quindi ti hanno promesso qualcosa te lo danno subito loro sono molto forti lavorano benissimo con i vari social soprattutto Instagram fanno tantissimi contenuti a livello di immagine se andate a vedere il loro sito lavorano bene insomma utilizzano molto la grafica e i media e tutto quanto e quindi lo rifanno anche nel messaggio di benvenuto quindi ovviamente ci danno un benvenuto in modo diverso sono come dire come vediamo qui ci sono delle immagini e ci danno alcune informazioni insomma sul discorso sulle novità insomma su tutto quello che fanno e poi ci dicono ecco per iniziare ecco 5 cose di noi per conoscerci un po' meglio e quindi ci danno appunto tutte le informazioni che spiegano appunto come fanno come lavorano questa è un'immagine di benvenuto fatta veramente veramente bene inoltre ovviamente oltre a questo che poi può andare ovviamente anche tu a registrarti e vedere tutte le informazioni ovviamente ci danno comunque lo sconto anche questo è nella parte alta del sito perché è importante ovviamente che la persona pensi come prima cosa guardi questi non solo mi stanno dando delle informazioni ma soprattutto stanno mantenendo la promessa e mi stanno dando lo sconto anche perché molto spesso il cliente in questa fase è in una fase calda quindi è interessato magari ad acquistare e quindi è importante che ci sia la possibilità in modo rapido di andare sul sito e procedere con l'acquisto quindi anche questa sicuramente è molto 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 bella poi abbiamo Bottega Sicana che forse conoscete è l'azienda appunto di cui sono socio dove anche qui noi diciamo ecco il tuo coupon sconto quindi diamo sempre priorità al fatto che visto che ci hanno lasciato la mail prevalentemente per avere il codice sconto allora glielo diciamo nell'oggetto perché come sappiamo l'oggetto è una delle cose importanti per far sì che le persone si decidano ad acquistare qui abbiamo noi alcune informazioni appunto sull'azienda dove gli diciamo appunto la nostra classificazione in termini di recensioni e gli diamo il benvenuto noi comunque facciamo molta leva sulla famiglia sull'insieme insomma tutto quanto e quindi abbiamo utilizzato queste immagini di noi soci e collaboratori dell'azienda e poi ovviamente anche qua gli diamo il codice sconto da utilizzare con tutte le istruzioni quindi come prima cosa gli diamo questo un'altra cosa che noi facciamo è far vedere il video di presentazione e che questo video è molto toccante insomma parla di famiglia spieghiamo anche come vengono fatti i prodotti in un paio di minuti per chi vedrà questo video il video sicuramente riuscirà in qualche punto ad avere un legame con l'azienda perché ovviamente parla di famiglia è una cosa che interessa generalmente a tutti e parla di tradizioni e chi è interessato alla nostra linea di prodotti sicuramente trova tanti spunti positivi per creare un legame con l'azienda e poi ovviamente gli diciamo torna sul sito nel caso in cui appunto tu sia o voglia utilizzare queste cose di sconto oppure ti abbiamo emozionato con il video quindi insomma vuoi tornare sul sito per vedere di più e magari fare un acquisto ovviamente l'obiettivo deve essere sempre quello di far acquistare il prodotto alla fine ok di far fare un primo ordine in modo tale di restaurare questa relazione in modo un po' più efficace perché poi con tutto il post vendita e tutto il lavoro che si fa dopo si crea una relazione sempre più forte anche qui diamo le informazioni sulle spedizioni insomma sui pagamenti e sulla qualità dei prodotti e ovviamente poi abbiamo anche il nostro loghino i social e la possibilità di disiscriversi ok andiamo a vederne un'altra andiamo a vedere American Ankle questa è un'altra azienda molto importante è nel settore dei prodotti dolciari americani e quindi vendono prodotti diciamo che difficilmente si trovano anzi forse non si trovano proprio nei supermercati e qui abbiamo appunto alcune informazioni anche qua ti dà dei consigli insomma sui prodotti qua non ci dà un codice sconto ok infatti questa registrazione è stata fatta da un form dove non ti dice ovviamente che ti dà uno sconto quindi quello che ti dice Fabio adesso sei nella newsletter quindi ti do indicazioni su quello che avverrà successivamente quindi una volta che ti sei iscritto a quel punto ti dice che riceverai anteprima sulle ultime notizie sulle promozioni dei prodotti American Ankle e poi ovviamente ti manda anche su una sezione del sito dove ci sono le box che loro sono i prodotti che spingono tanto ovviamente ti rimanda anche sui social anche loro lavorano abbastanza bene hanno tantissime campagne attive sui social hanno un pubblico comunque molto giovane e quindi ovviamente si rifanno ai contenuti che gli interessa spingere ok quindi questa anche questa come vediamo un'email abbastanza semplice comunque efficace anche in questo caso il tastino la call to action come sappiamo è molto molto importante da utilizzare e come l'abbiamo visto c'è praticamente in tutte le mail di benvenuto perché il primo scopo è quello ovviamente di darti quello che ti abbiamo promesso e poi successivamente dare per chi vuole per chi pensa che nel proprio progetto sia interessante farlo delle informazioni sull'azienda e poi ovviamente l'azione è quella visto che generalmente se ti sei iscritto alla newsletter sei particolarmente interessato è quella di portarti fino all'acquisto diciamo del prodotto e quindi il bottone ti deve riportare sul sito per completare l'acquisto e andiamo a fare delle considerazioni finali allora quindi cosa dobbiamo fare se vogliamo creare una email di benvenuto allora come prima cosa ricordiamoci sempre che dobbiamo essere coerenti con il nostro business cioè se noi abbiamo un'impostazione abbiamo un tipo di cliente un target ben definito allora dobbiamo comportarci in un modo piuttosto che un altro per esempio Velasca vende prodotti comunque di qualità medio alta nel settore fashion e utilizza come sua modalità come sua strategia di marketing tante fotografie tanti video tanti media e quindi le riporta anche in questo caso nella propria newsletter quindi è coerente con quello che fa con le fotografie che molto spesso vengono utilizzate diciamo sui social e sul proprio sito li riporta anche nella newsletter ok per esempio invece un'azienda come per esempio Bottega Sicana che generalmente noi ci rivolgiamo alle famiglie e abbiamo prodotti alimentari ovviamente in questo caso noi cerchiamo sicuramente sempre dare quello che abbiamo promesso e quello che abbiamo visto lo fanno tutti quindi se promettiamo uno sconto glielo diamo se diciamo invece che gli daremo dei contenuti gli spieghiamo che cosa succederà nei passaggi successivi mentre per quanto riguarda appunto sempre sempre di Bottega Sicana visto che il nostro target sono comunque generalmente le famiglie e soprattutto abbiamo un target di persone di un'età diciamo generalmente da 35 in su ovviamente facciamo leva su questo facciamo leva sul discorso appunto famiglia e se andrà a vedere il video di Bottega Sicana vedrà appunto che facciamo parliamo di questo parliamo ovviamente di artigianalità dei prodotti visto che spingiamo in quella direzione e ovviamente tutto rimanda poi come abbiamo visto in tutte le messaggi di benvenuto a portare all'acquisto finale quindi questo insomma quello che dovrà fare bisogna prestare attenzione all'oggetto come abbiamo detto perché l'oggetto nell'email che appunto contiene poi il messaggio di benvenuto a volte possiamo anche essere diciamo un pelino innovativi cercare di fare qualcosa di diverso ma ricordiamoci che la semplicità e l'immediatezza nella comunicazione è fondamentale quindi se dai un coupon digli appunto al tuo cliente ecco il tuo coupon ok così almeno lo sa sanno che quelle mail corrisponde a quello che hanno appena fatto e quindi vanno a cliccare e la vanno a aprire quindi la semplicità paga sempre cerchiamo di essere ovviamente innovativi quando è possibile e soprattutto lo torno a ripetere è importante essere diciamo coerenti con il nostro posizionamento sul mercato adesso ti saluto e ci vediamo in un prossimo video ciao iscriviti al nostro